Brr! Novantacquaatzdo! Bluululululul Su l'Xbox One? Oggi facciamo la seconda parte di Outlast 2 e ci siamo nascosti in questo pratino di merda! Sicuramente stavamo forse stavamo cagando dentro nel prato, ecco perché ci stanno cercando hanno int Franzot la loro fogna può darsi! Andiamo subito allora Ok una rampa facciamo un salto di qualità abbassiamoci abbassiamoci mi sto abbassando un attimo oddio scappiamo 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 scappa scappa mi dispiace se ho caccato nella vostra zona quella è la zona vostra scusate io voglio il mais voglio come cartigianico il mais non ti emoziona utilizzare gli occhiali madonna madonna brutta troia di merda ma così che cazzo fai madonna io stavo sentendo qua tutto il rimbolo scusa abbiamo giocato a questo pezzettino di merda di gioco solo questo pezzettino eh c'è finito vabbè comunque ragazzi ce la vediamo al prossimo video mettete tanti mi piace e iscrivetevi al nostro canale sia il mio che blu e scoppio sempre a quello di scoppio89 ciao ragazzi ciao 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 ciao